Il nuovo amministratore unico di Irpini Ambiente, Matteo Sperandeo, si presenta stamane alla conferenza stampa a Palazzo Caracciolo durante la quale il presidente della provincia, Domenico Biancardi, e l'amministratore uscente della società in house, Nicola Boccalone, hanno lanciato in maniera decisa l'idea di mettere insieme la gestione dei rifiuti su Irpini e Sannio per poter realizzare economie di scala negli investimenti sugli impianti e il funzionamento del ciclo integrato. L'obiettivo è trasferire il modello irpino nel Beneventano, dove l'attuale segretario generale della Rocca dei Rettori ha trovato un settore al collasso. Chiaro l'approccio da parte dell'esperto dirigente di enti pubblici Sperandeo con un passato da segretario comunale e attualmente direttore generale al Comune di Pozzuoli. La prima attenzione sicuramente è a chi ci lavora, gli uomini e le donne che hanno fatto di questa azienda una delle più importanti del panorama provinciale e quindi con una grandissima attenzione rispetto a questo. E poi ovviamente l'altra grandissima attenzione rispetto ai nostri clienti, che sono sia le amministrazioni pubbliche verso le quali noi svolgiamo il servizio e i cittadini, che sono poi i beneficiari ultimi del nostro servizio. Ma se l'obiettivo finale è l'autonomia gestionale, non si può non parlare di impianti, specie per il trattamento dell'umido. C'è un problema di impiantistica che è in dubbio. Io credo che per quel poco, insomma, che mi sono fatto l'idea, chiaramente poi sono i primissimi giorni e aspetterò anche per rientrare di più nel dettaglio e nel particolare anche delle vicende impiantistiche. È una valutazione, un ragionamento che deve essere fatto con estrema attenzione e con estrema, diciamo, intelligenza di prospettiva, dico io, perché un altro elemento che va tenuto a conto è l'aspetto ambientale della nostra provincia, della nostra, diciamo, delle nostre comunità e dei nostri territori. Intanto, il Pini Ambiente sconta il problema di non riuscire ad incassare 40 milioni di credit dai comuni serviti. L'idea che mi sono fatto io è quella di tenere insieme le due cose, cioè di fare in modo che ci sia un'attenta gestione delle nostre risorse anche sotto il profilo, diciamo, della capacità di recupero delle entrate da parte della società con un'attenzione anche a quelle che sono i bilanci degli enti locali.